Laboratori e giochi di ruolo, storie di vita, stimoli creativi, realizzazione di spot e cortometraggi. Il Comune di Napoli promuove DiverCity, un progetto per incoraggiare la cultura della differenza e per rafforzare il contrasto all'omofobia e alla transfobia. Realizzato in collaborazione con l'Università Federico II, Arci Gay, Arci Lesbica e Arci eventi e con la cooperativa sociale Daedalus e finanziato interamente con fondi europei, il progetto DiverCity prevede interventi nelle scuole per studenti e docenti, uno sportello di consulenza ed ascolto e interventi di formazione e di confronto sui temi dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale. È un tema molto delicato, soprattutto in fase adolescenziale, ma proprio per questo bisogna cominciare a parlarne e a fare una sana educazione, perché le distorsioni sono tantissime, i pregiudizi che nascono, gli stigma che nascono proprio in quella fascia di età, anche attraverso il linguaggio, sono tanti e noi li conosciamo. Quindi cominciare proprio dall'età dei bambini preadolescenziali addirittura, a educarli al rispetto e alla dignità di ciascuna e di ciascuna esistente, comunque essa voglia manifestarsi. È una cosa molto seria e molto giusta. La scuola è obbligata a lottare contro le discriminazioni perché nella scuola pubblica non si discrimina a prescindere e l'obbligo di istruzione fa sì che tutte le differenze si trovino nelle classi. Ora naturalmente però lottare contro l'omofobia, contro lo stigma, contro quelle discriminazioni che entrano nel pensiero delle persone, nella mentalità delle persone e che di conseguenza fanno di una differenza, non una risorsa ma un problema, è un compito invece educativo per eccellenza. Ancora oggi, racconta il professor Valerio, incontriamo adolescenti omosessuali o transessuali che subiscono il rifiuto della famiglia, a volte persino l'emarginazione. Spesso però il problema si risolve curando il turbamento dei genitori, spiegando loro che non si tratta in nessun caso di una malattia, ma di una normale possibilità prevista dalla natura. Essere omosessuale, essere etrosessuale, essere bisessuale non è una scelta ma è un modo di essere. Oggi la scienza non si interroga tanto e solo come si diventa omosessuali, ma come si diventa etrosessuali. Quindi quello che noi cerchiamo di combattere è quel pregiudizzo della etronormatività. Che significa questo? Che soltanto se sei etrosessuale sei normale, il resto non è così. Invece la scienza ha dimostrato che essere omosessuale è una delle possibilità che gli esseri umani hanno di esprimere i loro bisogni affettivi e anche la loro vita sessuale. Il progetto coinvolgerà mille adolescenti e 250 docenti della scuola impegnati in percorsi di conoscenza e di socializzazione sul valore delle differenze. Una formazione scientifica e interdisciplinare servirà a contrastare pregiudizi e false credenze, mentre gli incontri con esponenti delle associazioni LGBT permetteranno di condividere aspetti di vita quotidiana e strategie di contrasto all'omofobia e alla transfobia. La cosa che mi fa piacere è che molte scuole hanno risposto a questo progetto. Diversiti dimostra che Napoli è il luogo giusto per realizzare la città diversa, la città dell'inclusione. Informazioni e contatti su www.napolidiversiti.it